Grazie, signor Commissario. Nonostante la propaganda del Governo italiano, presto smentito dalla Commissione, l'emergenza dei rifiuti in Campania è un problema strutturale tutt'altro che risolto. Al di là di elenchi discutibili, bisogna rendersi conto di un unico dato di fatto, cioè i cittadini campani continuano a vivere e a morire in mezzo ai rifiuti. La classe politica locale, regionale e nazionale, a destra come a sinistra, ha pesantissime responsabilità. Adesso la soluzione del problema non può essere scaricata sui cittadini, già vittime di condizioni di vita assolutamente insalubri. L'Unione Europea deve imporre che la soluzione sia virtuosa, altrimenti il suo intervento risulterebbe vano. Non è costruendo gli inceneritori, peraltro finanziati, come fonti rinnovabili in contrasto alla normativa europea vigente che si risolve la questione. I rifiuti verrebbero trasformati in ceneri e missioni nocive e mortali. Gli inceneritori, ce lo dice la direttiva rifiuti, sono l'ultima opzione gerarchica di un ciclo integrato di rifiuti che presenta alternative virtuose senza impatto sulla salute dei cittadini e sull'ambiente e che anzi creano occupazione. E rispetto alle infiltrazioni mafiose, ritengo sia opportuno prendere atto che le infiltrazioni mafiose, soprattutto nel campo dei rifiuti, sono al sud ma soprattutto al nord, specialmente negli ultimi anni. Pongo pertanto alla Commissione tre domande. Come intende agire per evitare che la soluzione del problema ricada sulla salute dei cittadini e che cosa intende fare per evitare che i cittadini vengano imposti a decisioni e che vengano addirittura militarizzati i territori? Ritiene opportuno porre tra le condizioni per la chiusura della procedura di infrazione l'immediata attivazione del registro tumori per l'intera Regione? In che maniera la Commissione valuta la legge 210 del 2008 e in particolare l'articolo 9 relativo agli incentivi per la realizzazione degli inceneritori, nel quale viene violata palesemente la normativa comunitaria relativa agli aiuti di Stato? Grazie. Sì, dopo le bugie del governo Berlusconi che si è inserato nel 2008 dicendo agli italiani che il problema dei rifiuti era superato, fa bene l'Unione Europea a bloccare i fondi all'Italia fino a quando non verrà presentato un ciclo dei rifiuti ecocompatibile che si fondi sul riciclaggio dei rifiuti e sul compostaggio. E non è certo il piano che ha presentato il Presidente Caldoro che si fonda ancora una volta su discariche incontrollate come quella di Chiaiano, di Taverna del Re, di Terzigno, addirittura nel Parco Nazionale del Vesuvio né degli inceneritori che producono morte, tumori e una vera e propria emergenza sanitaria. I soldi pubblici in Campania nell'emergenza ambientale di questi 13 anni hanno consolidato i rapporti criminali tra la politica, tanto di sinistra quanto di destra, degli imprenditori e della camorra. E nelle questioni ambientali si risolvono con la criminalizzazione del dissenso, con le criminalizzazioni delle comunità locali, delle famiglie e del territorio, come ha fatto il governo italiano utilizzando il malganello per reprimere chi difende la natura e il territorio. La parola a nome della Commissione al Commissario Potonik. Grazie, Signor Presidente. Onorevoli parlamentari, innanzitutto vorrei ringraziare tutti gli eurodeputati che hanno voluto attirare la mia attenzione e l'attenzione dei miei servizi su questo dossier così importante. Sono lieto che il Parlamento europeo abbia assunto un ruolo attivo nel seguire la situazione dei rifiuti in Campania, come emerge dalla relazione adottata dalla Commissione Petizioni in seguito alla delegazione in aprile scorso in Campania. Il Parlamento ha davvero un ruolo cruciale in questo senso e lo ha assunto a pieno. Immediatamente dopo la sentenza della Corte, pronunciata il 4 marzo 2010, la Commissione ha scritto alle autorità italiane, chiedendo quali erano le misure che avevano in previsione o che avevano già adottato per ottemperare al pronunciamento della Corte. In seguito la Commissione ha tenuto ripetuti contatti ed incontri con le autorità italiane, da ultimo durante la delegazione a Napoli il 22-23 novembre 2010. Una delegazione costituita da membri della Direzione Generale Ambiente. Noi riteniamo che le autorità italiane abbiano ancora molto da fare per ottemperare alla sentenza della Corte. In modo particolare devono in primo luogo ampliare e migliorare le strutture di gestione dei rifiuti in tutto il territorio campano. In secondo luogo devono mettere a punto un piano adeguato per i rifiuti urbani in Campania che tenga conto, tra l'altro, della gerarchia della gestione dei rifiuti. La Commissione non è soddisfatta delle misure che le autorità italiane hanno comunicato in seguito al pronunciamento della Corte, in quanto queste misure non prevedono un caledario dettagliato per quanto riguarda la costruzione delle installazioni previste. Noi riteniamo che il piano per la gestione dei rifiuti della Campania debba essere completamente ottemperante al diritto comunitario e deve dare la priorità alla riduzione dei rifiuti, al riutilizzo, ritrattamento e riciclo, garantire la realizzazione della raccolta differenziata su tutto il territorio della Regione, offrire alla Campania le capacità di compostaggio necessarie, determinare provvedimenti per lo stoccaggio sicuro in tempi ragionevoli degli oltre 7 milioni di tonnellate stoccate in diverse città cappane. Questo significa che le autorità italiane dovranno svolgere un'analisi delle cosiddette ecoballe prima di decidere quale sia il modo migliore per gestirle e smaltirle. Se non ci sarà un piano di smaltimento dei rifiuti adeguato, la Commissione deferirà nuovamente il caso alla Corte chiedendo che siano combinate sanzioni pecuniarie. Quindi dobbiamo seguire con estrema attenzione il progetto di piano che le autorità campane hanno appena presentato alla Commissione. Quando dico appena intendo proprio da pochissimo. seguiremo con attenzione il fatto che questo piano sia realmente attuato. La decisione in merito a se e quando ricorrere a un procedimento ex articolo 260 contro l'Italia dipenderà sostanzialmente dal contenuto del piano di gestione dei rifiuti e dalla tempistica delle misure che dovranno in tempi brevi affrontare il problema in modo convincente. Per quanto riguarda le discariche esistenti, la Commissione ha già avviato indagini e ha chiesto alle autorità italiane di riferire in merito al funzionamento della discarica di Terzigno. Una volta che la Commissione avrà ricevuto le informazioni le valuterà. Nella fase attuale la Commissione non ha elementi che possano integrare una violazione del diritto comunitario in materia di rifiuti. Il fatto che i siti si trovino in un parco naturale non costituisce di per sé una violazione del diritto comunitario a patto che siano rispettate le altre regole e a patto che le autorità competenti svolgano un'adeguata valutazione di impatto ambientale e attuino le misure di compensazione e mitigazione del caso. Per quanto riguarda il cofinanziamento delle misure per lo smaltimento dei rifiuti in campagna, nell'anno 1994 88,1 milioni di euro sono stati destinati a progetti di smaltimento, 49% con finanziamento a titolo del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, solo il 90% è stato realmente utilizzato a causa delle difficoltà collegate alla crisi dei rifiuti e a causa della creazione del piano straordinario nel 1994. Nel periodo di programmazione 2002-2006, 140 milioni di euro, 50% cofinanziato dal FESRA, sono stati destinati ai progetti di smaltimento. Tuttavia, in seguito alla crisi dei rifiuti, la Commissione ha deciso di adottare misure specifiche per garantire che i fondi stanziati per la campagna venissero utilizzati correttamente. Dal 1 gennaio 2005, la gestione della spesa è stata considerata inammissibile al cofinanziamento. Dopo la notifica ufficiale all'Italia dell'apertura del procedimento di infrazione per quanto riguarda lo smaltimento dei rifiuti, 29 giugno 2007, la Commissione ha informato le autorità italiane che non sarebbe stato considerato accettabile nessun altro cofinanziamento per la gestione dei rifiuti. Il programma regionale 2007-2014 per la campagna prevede un investimento totale di 270 milioni di Euro, 50% cofinanziato dal FESRA per lo smaltimento dei rifiuti. Tuttavia, l'impiego dei finanziamenti europei per i progetti nel settore dei rifiuti è soggiace alla condizione che le autorità italiane adottino un piano di smaltimento dei rifiuti che deve essere convalidato dalla Commissione. Domani pubblicheremo il rapporto sull'attuazione della strategia tematica per la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti. Questo rapporto evidenzia le sensibili differenze che esistono tra i diversi Stati membri e dimostra chiaramente che con una strategia adeguata le discariche possono essere progressivamente ridotte e deliminate e l'incinerazione stessa può essere eliminata aumentando il riciclaggio e il compostaggio. Oltre alla trasformazione dei rifiuti in risorse, questo crea anche attività economiche e occupazione e riduce l'impatto sull'ambiente dello smaltimento dei rifiuti. Spero pertanto che questa crisi diventerà un'opportunità per le autorità competenti tramite il lancio di una serie di iniziative per quanto riguarda soprattutto la raccolta differenziata. In breve, la Commissione auspica che il piano di smaltimento dei rifiuti per la campagna sia convincente e finché non avremo la certezza che il piano sia adeguato e corroborato da infrastrutture adeguate e finché non avremo la garanzia che questo piano possa essere attuato, la Commissione continuerà a rimanere vigile e ad interrompere qualunque altro aiuto. Rimango a vostra disposizione per rispondere nella mia replica alle domande che vorrete rivolgermi. Grazie.